Neanche un anno ed è calato il sipario sul matrimonio di Valeria Marini e l'imprenditore Giovanni Cottone, ufficiato, lo ricordiamo, il 5 maggio scorso a Roma. Cerimonia in pompa magna, ma divorzio rapido e in segreto a quanto pare, anche se vista la portata della notizia, la Sugar Girl non poteva che sottoporsi suo malgrado all'umiliazione pubblica che di questi tempi vuol dire social. Su Twitter e non solo, non appena si è diffusa la bomba mediatica, sono rimbalzati innumerevoli commenti, frecciatine e veri e propri insulti nei confronti della bionda stilista, che ha anche deciso di annullare il matrimonio alla Sacra Rota. Tanto spazio al sarcasmo su Twitter, ad esempio, ecco alcuni post molto irriverenti. Stasera mi aspettavo uno speciale di porta a porta sulla separazione della Marini con tanto di plastico naturale, oppure Valeria Marini si separa a metà nella plastica e a metà nell'umido, o ancora Valeria Marini si è separata o sono ingrassate le Kessler. I motivi della separazione restano ancora ignoti, chissà se la diretta interessata svelerà qualcosa in più proprio per rispondere alle offese che corrono in rete.